Claudio, ci puoi spiegare in poche parole che cosa è successo ieri? Ieri è successo un evento sismico nella nostra provincia che è stato molto importante perché la zona nostra sismica è catalogata di seconda categoria, cioè ammette terremoti da medio a alti. Però quello di ieri è stato veramente alto. Noi abbiamo fatto uno studio, ma su basse statistica, ma non scientifica, che in una zona sismica come la nostra avviene un terremoto grosso ogni 80-100 anni. Se pensiamo che nel 1930 la nostra zona è stata interessata da un terremoto di 5,9, vediamo che dal 1930 sommando 80-90 anni torniamo ad oggi col terremoto di 5,7. Nelle nostre zone sono stati localizzati dei punti ben precisi? Sì, l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha fornito un database, un DIS, DIS.3, che ci spiega, ci cartografa dove sono le zone sismogenetiche, cioè dove stanno le faglie attive capaci di generare un terremoto. Questo terremoto di ieri è stato generato a una distanza di circa 30 km dalla costa fanese, nella nostra costa, in una fassa di larghezza di una decina di chilometri. Ma come abbiamo visto per i pocentri, anche la profondità di questa faglia che si è stirata è profonda. Una decina di chilometri sono di più e questo ha generato tanta energia da fare tremare anche alcuni palazzi. Come si misura un terremoto? Molti confondono ancora la scala Ritter con la Mercalli, ce lo puoi spiegare? Sono due scale nettamente differenti perché la scala Mercalli prende in considerazione i danni che un terremoto può fare. Crolli di cornicioni, distruzione totale, apertura di cavità, eccetera. La scala Ritter invece, oggi adottata da tutti, prende in considerazione il parametro fondamentale, cioè la energia liberata dal terremoto, che è quello che ci interessa. Ieri è stata liberata tanta energia dal terremoto e un ipocentro così poco profondo poteva anche causare tanti danni. La conformazione geologica del territorio di Fano ci spiega perché non ne ha causati tanti, perché la scossa propagandosi in centri concentrici arrivando alla costa fanese ha incontrato le alluvioni terrazzate del Metauro. Quindi ghiaie e sabbie poco consistenti, di potenza 20 metri, anche 30 metri, che hanno smorzato questa scossa. Dobbiamo convivere con il terremoto? Cosa si può fare ancora? Sì, purtroppo dobbiamo sempre convivere con il terremoto perché non sapremo mai quando ci sarà il prossimo terremoto. Ma però possiamo sapere dove e come si comporterà. Questo suggerisce il fatto di dover destinare ad ogni area la sua collocazione giusta per costruirci. Quindi dobbiamo costruire in modo sicuro prendendo spunto dalle informazioni del terremoto che abbiamo oggi.